Ben trovati in un aggiornamento con il TGD3B. Parliamo di temperature quest'oggi perché è stata una notte invernale su buona parte dell'Italia, complice all'arrivo di aria fredda direttamente dal nord Europa, dalla Scandinavia, e queste sono state le temperature registrate proprio nella prima parte di questo giovedì 6 aprile. Possiamo osservare su molte zone temperature prossime o uguale allo zero, addirittura Olbia in Sardegna un grado. Nel riquadro con i colori arancioni invece possiamo notare le temperature registrate a Natale, quindi un fine settimana di Pasqua che si presenta dei connotati più invernali rispetto al weekend di Natale che è stato decisamente più mite per quanto riguarda le temperature della notte. Andiamo a vedere di fatti il satellite che ci mostra sempre la discesa di quest'aria fredda dal nord Europa, complice all'anticiclone che si eleva verso nord e infiltrazioni di aria fredda da est a nord est interessano le nostre regioni. Con residua instabilità all'estremo sud però sta migliorando. Non è tutto perché poi dal mare del nord, proprio venerdì, giungerà un minimo di bassa pressione alimentato da aria fredda. Quindi venerdì tra il pomeriggio e la sera molte nuvole in aumento al centro nord, delle piogge sulle regioni settentrionali, Toscana, poi in serata anche Lazio, Umbria e Marche. Neve sulle Alpi fin verso i 1000, 1300 metri di quota, neve anche sull'Appennino Tosco e Emiliano. Sabato migliora al nord e sulla Toscana a parte qualche piovasco pomeridiano sul nord est, mentre il maltempo sulle regioni centrali sabato mattina e poi a sud. E qui con neve in appennino fin verso i 1000, 1300 metri di quota. Quindi neve che non mancherà anche sull'Appennino. Temperature di fatti nei prossimi giorni che saranno sotto la media stagionale, complice ancora nel corso di Pasqua di questo minimo di bassa pressione alimentato da aria fredda dal nord Europa. Ulteriori dettagli e approfondimenti scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo sul nostro sito web.